Ciao ragazzi, iniziamo con una bellissima borsetta Laura Biagiotti motivo traforato a fiori ed è che bella lavorazione tracolla, dietro non c'è niente quindi ci sono gli attacchi per la tracolla si può portare anche a mano a mano non è una cosa tanto grossa sapete che io amo quelle grosse però questa mi è piaciuta particolarmente costa un po' di più delle altre perché è più fine tracolla l'interno è rosa, rosa cipria abbiamo le due taschine cellulare e l'altra tasca qui il tutto poi è chiuso così con la sua fodertina questo è il logo della chiusura l'ho preso un po' di tempo fa da pittarello e sono rimasta molto contenta e con questo vi saluto, ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti